L'emergenza, sicurezza e degrado a Roma, termini adesso più telecamere, lo dicono sia il prefetto Frattasi, oggi c'è un comitato che l'assessore alla sicurezza della capitale, ma sulla vicenda dell'accoltellamento alla stazione Termini, tutti gli aggiornamenti da Roma con l'area Dionisi. Vuole solo dimenticare le parole della mamma della 24enne israeliana, è arrivata da Tel Aviv, sua figlia è ricoverata in condizioni stabili, al policlinico Umberto I di Roma, il suo capodanno a Roma è stato drammatico, accoltellata, mentre faceva un biglietto davanti a una delle macchinette automatiche della stazione Termini. In procura si procede per tentato omicidio, al momento non sono coinvolti i PM dell'antiterrorismo, continuano le indagini della polizia che sta cercando di identificare l'autore dell'aggressione, un uomo vestito di scuro, con un cappellino in testa, con in mano una busta azzurra, dalla quale ha estratto il coltello e colpito la studentessa. Il movente resta ancora sconosciuto, non l'avevo mai visto prima, non ci ho mai discusso, non so perché abbia scelto me la testimonianza della vittima, il killer mancato avrebbe preso un autobus dalla periferia della capitale per poi raggiungere Termini, tutto farebbe pensare a un'aggressione immotivata, un gesto folle e gratuito. La giovane sullo zaino aveva simboli e scritte israeliani, ma sulla pista dell'odio razziale c'è molta prudenza, oggi in prefettura ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. È tutto in linea a voi.